Buongiorno mister, siamo alla vigilia della partita contro il Cagliari e siamo qui per rispondere alle domande che ci hanno inviato i giornalisti. Iniziamo dalla prima, come avete trascorso questi lunghi giorni in isolamento? Buongiorno, in maniera molto serena, siamo stati molto bene, quindi gli allenamenti sono proseguiti sulla falsa riga delle altre settimane, quindi direi che è sicuramente un ritiro positivo anche perché poi abbiamo approfittato di conoscerci un pochino meglio visto che la squadra si sta completando e abbiamo avuto più tempo a disposizione per stare insieme. La seconda, dopo la bella prova contro la Juve la nave Crotone ha sciolto sugli ormeggi ed ha iniziato la giusta navigazione per raggiungere la meta della salvezza? Diciamo all'inizio, è chiaro che le prestazioni sono state importanti, la prestazione con la Juve pure, è importante e determinante fare dei punti come dicevamo alla vigilia, di sicuro bisogna dare continuità, non soltanto di prestazioni ma in maniera assoluta di punti. Terza domanda, situazioni indisponibili, Benali e Riviera sono a disposizione e possono essere della partita fin dall'inizio? Sono disponibili, non sappiamo ancora se dall'inizio però si sono allenati Benali, si è allenato da una settimana con il gruppo e Riviera ha fatto soltanto due allenamenti, però sono disponibili. Quarta domanda, cosa servirà per avere la meglio su una squadra come il Cagliari? Penso che poco fa ho detto che bisogna dare continuità, è chiaro che è importante fare dei punti, dare seguito sicuramente alle prestazioni, fare meglio le cose dove magari in certe situazioni non siamo stati bravi e fare meglio anche le cose che siamo stati bravi a fare anche con la Juventus. Quinta domanda, si giocherà ad un orario insolito per il Crotone, è cambiato qualcosa nella vostra preparazione in settimana o cambierà qualcosa in ottica gara? Beh in ottica gara sicuramente ci sarà un pranzo anticipato, però con lo spostamento dell'ora diciamo che ci avviciniamo un pochino di più a un orario canonico del pomeriggio, devo dire che non ci saranno grandissimi stravolgimenti. Sesta domanda, terminatele amichevoli la formazione messa in campo contro la Juve, quanto è vicina a quella ideale? Ma io sono pronto sempre a cambiare, è lo stato di forma dei ragazzi, la condizione diciamo totale della squadra che mi permette di mettere in campo la squadra più pronta. Qui non esistono titolari riserve, qua si guarda durante la settimana chi può stare meglio, è chiaro che non ci si inventa niente, però di sicuro di volta in volta ci sarà da poter attingere a chi sta meglio rispetto a qualcun altro che ha giocato la domenica prima. Settima e ultima domanda, considerando i prossimi tre turni ravvicinati, visto che mercoledì ci sarà la Coppa Italia, ci saranno novità nell'undici iniziale che affronterà il Cagliari? No, bisogna guardare partita dopo partita, siamo all'inizio, ora pensiamo al Cagliari e poi di conseguenza penseremo alle prossime partite.